ciao a tutti voi i miei cari amici ascoltatori e ancora una volta benvenuti a un nuovo episodio di italiano in podcast sono tornato ho fatto una pausa ieri lunedì perché non c'era troppo da raccontare e anche perché la puntata di domenica era un po lunga c'era un lungo racconto dei miei ultimi giorni a torino e quindi ho preferito aspettare un giorno prima di registrare un nuovo podcast ma soprattutto ho aspettato un giorno anche perché oggi in italia è una festa una festa importante è il 25 aprile è la festa della liberazione cioè il giorno in cui diciamo ufficialmente finisce l'occupazione nazifascista dell'italia quindi l'italia torna ad essere un paese libero anche dalla guerra un paese completamente sotto il controllo della della del governo italiano quindi finisce questa brutta brutta epoca storica almeno per l'italia perché poi la guerra continuerà ancora in altri luoghi ma in italia possiamo dire che il 25 aprile è il giorno in cui si ritrova la gioia di essere un popolo unito e un popolo libero dalle dittature e dalla guerra quindi ho aspettato anche per questa ragione per fare un podcast in questa giornata speciale molti italiani ovviamente sono in vacanza perché è anche un ponte il lunedì è l'unico giorno di lavoro in mezzo al sabato la domenica e a oggi è stato l'unico giorno di lavoro e quindi molti come spesso accade in queste situazioni per il 25 aprile o per il primo maggio molti hanno preso questo giorno di vacanza hanno preso il lunedì di vacanza per avere un periodo di tempo più lungo per fare un piccolo viaggio o anche semplicemente per godersi un po' di riposo nelle loro case ma come ben potete ascoltare io sono ovviamente restato a casa e lavoro anche in questa giornata beh ho avuto la mia bellissima vacanza la settimana scorsa non mi posso lamentare ho avuto sei giorni molto molto belli quindi adesso è ora di rimboccarmi le maniche e ricominciare a lavorare vi ho già raccontato cosa significa questa espressione vuol dire prepararsi ecco insomma fare un po' di lavoro più duro rimboccare le maniche vuol dire alzare le maniche di una maglia o di una camicia metterle sopra l'avambraccio proprio per prepararsi al lavoro duro quello fisico e quindi è diventata un'espressione con cui vogliamo dire che ci prepariamo ci rimbocchiamo le maniche per prepararci a un periodo di lavoro un po' più intenso periodo di lavoro che è ripartito un po' già giovedì il giorno dopo il mio ritorno con molte lezioni e che riparte anche questa settimana con i miei impegni per ASPIC italiano e anche per i miei amici studenti di italiano riparte il podcast della settimana all'inizio della settimana di nuovo nel mio studio di registrazione preferito nel mio stanzino ho risistemato risistemato alcune cose ho ricreato quindi un ambiente adatto a registrare spero che la differenza si senta spero che la qualità del suono sia buona registrerò i video nell'altra stanza ma dopo un po di prove ho capito che questo resta il posto migliore per creare un audio di maggiore qualità quindi lo stanzino è ancora il mio posto preferito per nascondermi alla sera tardi adesso non è troppo tardi sono le 11 e 30 quindi forse potrete sentire qualche rumore non lo so ma è il mio posto preferito dove passare questi momenti da vampiro un po' di notte per registrare il video e quindi sono qui nel mio stanzino bar studio di registrazione davanti al mio computer al mio microfono e sono pronto a darvi il benvenuto a questo nuovo episodio la puntata numero 662 di martedì 25 aprile 2023 e riparte quindi il nostro programma più normale ripartiremo con i quattro episodi a settimana oggi ho fatto l'eccezione di registrare il martedì ma dalla prossima settimana penso di ritornare al lunedì mercoledì venerdì e anche domenica ci proviamo sabato o domenica ci proviamo a mantenere questo programma più intenso sempre con lo stesso scopo quello di dare a tutti voi un nuovo esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana finita la vacanza insomma bisogna lavorare un po' prima della prossima vacanza questo è quello che facciamo tutti aspettiamo con ansia sempre l'arrivo di una nuova vacanza ma nel frattempo però è importante anche godere del lavoro che facciamo nel mio caso sono fortunato il mio lavoro mi piace le mie conversazioni con le persone che studiano italiano sono sempre molto interessanti e anche tutto questo progetto un po' faticoso ma interessante e voglio ringraziare proprio all'inizio una un'amica che conosco da tempo e che ha deciso di cominciarmi a sostenere si chiama emmy e proprio ieri ha iniziato a sostenere ice pick italiano su buy me a coffee con una piccola sottoscrizione un piccolo abbonamento mensile per dare una mano a questo progetto grazie emmy e grazie come sempre a tutti quelli che contribuiscono con la loro generosità ma veniamo un po' al racconto di questi due giorni che sono stati pieni ma anche con un po' di spazio per per riposare e fare un po' di attività all'aria aperta ieri era un giorno di digiuno ieri è stato un giorno di digiuno è lunedì come sempre ed è andato molto bene digiuno iniziato domenica sera più o meno le 9 e 30 e finito ieri sera intorno alle 8 e 45 quindi 23 ore più o meno e mezza un digiuno senza problemi come sempre qualche caffè amaro senza zucchero acqua molta sempre e poi ovviamente ho riempito il tempo con il lavoro ma non perché c'era bisogno di distrarmi dal cibo ma semplicemente perché come sapete bene il lunedì di solito è il mio giorno preferito il giorno in cui mi piace molto lavorare e mi sono occupato di diverse cose durante la giornata prima di tutto ovviamente ho preparato la pubblicazione del podcast di domenica di domenica sera e poi mi sono dedicato sempre a al podcast ma per youtube ho aggiornato alla penultima puntata youtube presto aggiornerò anche alle ultime quella di domenica e quella di oggi e poi mi sono dedicato al montaggio video quindi al lavoro sul video che ho realizzato con la mia amica maniscia per la sua intervista la nostra chiacchierata che presto pubblicherò sempre sul canale youtube ho dovuto fare ovviamente un po di lavoro di editazione per non dire editing ho lavorato insomma sul video grezzo quello che abbiamo registrato insieme ho perso un po più di tempo mi ha portato via un po più di lavoro perché ho deciso di imparare ad usare meglio questo nuovo programma che è molto potente e molto famoso che si chiama da vinci risolve finalmente ho imparato a fare alcune cose che non capivo bene diciamo che adesso ho una conoscenza più profonda credo che userò questo programma davvero fantastico nelle prossime nei prossimi lavori con i video questo programma ha una versione ovviamente libera senza senza bisogno di pagare dei soldi per usarlo e ha invece anche una versione professionale ancora più avanzata che che però ha un costo ovviamente per il momento a me è sufficiente a me basta la versione libera quindi userò questa versione per realizzare i video che voglio pubblicare su youtube questo come detto tante volte è il mio obiettivo principale adesso quello di realizzare più contenuti video per tutti voi oltre a questo podcast realizzare anche dei contenuti video per il mio canale youtube beh e realizzare anche dei podcast video per dare anche questo nuovo formato del podcast italiano in podcast certamente però quando registro un video è più facile farlo in un'altra stanza nella stanza di cui vi ho parlato e quindi la qualità audio dello stanzino è non è possibile ovviamente perché nell'altra stanza che è più grande c'è un po di eco e certamente c'è qualche rumore in più dall'esterno però posso dire che ogni tanto forse pensavo a un episodio a settimana sarà anche in video quindi italiano in podcast resterà podcast ma come ho detto forse un giorno a settimana diventerà anche un video e devo iniziare presto anche con queste serie di video che ho in mente aspetto anche Mara che da un po' di tempo non sento perché mi deve consegnare un nuovo logo proprio per una serie di video che ho in mente voglio creare appunto un nuovo formato che ospiterà in cui ci saranno dei video brevi e che voglio pubblicare su youtube e anche sui canali social aspetto questo logo che è quasi pronto da un po' però devo dire che ci sono state ovviamente delle feste, c'è stata la Pasqua, adesso c'è questo Ponze, poi Mara era un po' impegnata anche con altre cose di cui mi ha parlato quindi aspetto ancora un po' per vedere se può consegnarmi questo nuovo logo per questa nuova idea insomma la mattina e il pomeriggio sono andati un po' via con questo lavoro di editazione insomma di montaggio dei video e di preparazione del podcast è stato un po' più lungo proprio perché ho dovuto studiare questo nuovo programma la parte, beh ho fatto anche qualche passeggiata, sono uscito a fare qualche acquisto ho fatto una lunga passeggiata in realtà e poi nella parte finale della serata ho avuto tre lezioni molto molto buone, sono molto contento e all'interno di queste, in mezzo a queste lezioni ho avuto la mia cena, come ho detto, dopo la mia giornata di digiuno siamo come sempre a chiudere il lunedì sera è tornato Josh dopo il periodo di vacanze ovviamente ci siamo raccontati un po' tutto perché anche lui è stato in vacanza e ci siamo fatti come sempre quattro risate ci divertiamo sempre molto a chiacchierare in italiano questo è lunedì, quindi produttivo non come piace a me non sono stato troppo produttivo ma un buon equilibrio tra le lezioni il lavoro su Aspecchitaliano e anche un po' di riposo o almeno qualche attività fuori dalla mia casa oggi invece festa della liberazione molti italiani sono, come ho detto, in gita fuori dalle città molti sono anche sulle montagne, sulle colline, sui prati, al mare per festeggiare questa giornata con una bella scampagnata e magari anche una bella grigliata all'aperto la giornata non è stata troppo male c'è stato un vento fastidioso nella mia zona ma direi che era ancora possibile andare stare un po' di tempo fuori una scampagnata è una specie di picnic quindi una giornata passata all'aperto di solito fuori in una casetta in campagna in un bel prato, su una collina, vicino a un bosco, al mare, in spiaggia insomma, una scampagnata è una beh, è più una cosa che si fa in campagna di solito nella natura, nel verde non è di solito associata al mare ma è l'idea di fare una bella giornata a passeggio nel verde e poi mangiare insieme ad altre persone tutti insieme con una bella grigliata all'aperto o almeno di solito questo è ma anche un normale picnic è molto molto comune e popolare in questi giorni a Pasquetta, il 25 aprile, il primo maggio questi giorni di primavera sono spesso una buona occasione per fare belle scampagnate all'aperto insieme ad amici, a parenti insieme alle persone che amate di più intorno a voi questo è come gli italiani di solito lo passano come l'ho passato io come la Pasquetta la Pasquetta insieme a Maniscia per registrare il video oggi l'ho passato un po' tra il lavoro e alcuni incontri che ho fatto nel pomeriggio soprattutto la mattina mi sono dedicato a rielaborare e ripubblicare un articolo per celebrare questa festa ho ripreso e riformattato diciamo il mio articolo su Bella Ciao dell'anno scorso l'ho ripubblicato nel modo in cui pubblico adesso gli articoli quindi con un testo e anche con un esercizio di grammatica è un articolo interessante secondo me che racconta questa storia di questa canzone così popolare in tutto il mondo Bella Ciao è diventato un inno universale di libertà anche se associato ovviamente alla lotta di resistenza ma io direi che il senso profondo dell'inno è proprio quello della libertà e certamente è un inno che ricorda insomma anche a volte la necessità di combattere per la libertà come i partigiani italiani hanno fatto nel periodo nazifascista quindi certamente è un inno che celebra anche la lotta per la libertà però più universalmente direi che è un simbolo di libertà almeno secondo me quindi ho rielaborato un po' questo articolo e l'ho ripubblicato vi consiglio di leggerlo nei prossimi giorni continuerò con il lavoro che ho iniziato per scrivere con la scrittura di alcuni brevi articoli sulle attrazioni principali di Torino sto pensando se ho tempo di fare anche forse un piccolo podcast per questo dedicato a questi luoghi più interessanti della città ho fatto anche un esperimento interessante per questo beh, ho deciso di fare un test con queste nuove tecnologie di AI non farò mai scrivere un articolo a loro ma l'ho fatto scrivere per prendere uno spunto non userò quel testo ma ho avuto questa intuizione forse il modo migliore di usarlo di preparare però almeno dei punti essenziali di cui parlare all'interno di un articolo ho intenzione di usarlo in questo modo cioè fare a volte uno schema delle cose più importanti su cui parlare rispetto a un argomento ho fatto come ho detto un test anche per scrivere davvero un articolo di un certo numero di parole è adatto a un certo pubblico ed il risultato è davvero interessante però potrei pubblicarli così come sono ma se un po' mi conoscete questo non è il mio stile mi piace scrivere anche se è faticoso quindi questo è un po' un modo di imbrogliare non ha senso avere un blog e far scrivere a chat cbt gli articoli che pubblichiamo molti lo fanno ma questo non è affatto la mia intenzione posso usarlo come un aiuto come ho detto per avere un'idea più chiara di una struttura di quali argomenti toccare quando parlo di qualcosa questo è un uso molto interessante che mi aiuta insomma ad avere le idee più chiare su un percorso da seguire quando parlo di qualche cosa certamente se è un argomento che non ha bisogno di questo aiuto non lo userò ma per questo tipo di articoli su qualche monumento su qualche luogo o qualche evento storico può essere utile avere almeno un elenco una specie di lista di argomenti di sotto argomenti su cui parlare all'interno di questo testo questo è un aiuto che davvero mi può essere molto utile non preoccupatevi gli articoli che leggerete saranno sempre i miei non ho mai usato questa tecnologia per scrivere senza fatica la scrittura è fatica è qualcosa che porta via molte energie ma è qualcosa che ancora mi piace e non voglio rinunciare a utilizzare la mia creatività per farvi leggere qualcosa di interessante ok quindi la mattina è andata via così nel pomeriggio ho avuto una serie di tre lezioni fino alle 6 e 30 del pomeriggio circa e poi semplicemente mi sono preparato ho messo le mie scarpe e sono uscito per la prima corsa della settimana dopo domenica ho fatto altri 10 chilometri ma questa volta più veloci 54 minuti circa per 10 chilometri una velocità anzi un passo medio di 5 minuti e 27 secondi per ogni chilometro sono soddisfatto la mia condizione fisica sembra essere buona non perfetta ma di nuovo ha un ottimo livello presto forse potrei tentare nuovamente di correre i 10 chilometri sotto i 50 minuti ma c'è anche la preparazione di una maratona da fare non voglio farmi male voglio allenarmi nel modo giusto bene dopo questo buon allenamento e dopo scusate una notifica e dopo una una rinfrescata con una bella doccia rinfrescante e rilassante dopo una pausa insomma di riposo ho avuto un altro momento molto piacevole della mia giornata il mio preferito in realtà ho fatto una bella chiacchierata con Jay non troppo lunga cerchiamo di vederci su Skype quando è possibile in mezzo ai nostri mille impegni in realtà lei è molto più impegnata di me e invece io posso fare un po' come voglio perché sono sono l'impiegato di me stesso beh però anche io ho tanti impegni dobbiamo cercare di incastrare il nostro tempo libero per trovare le occasioni di incontrarci e farci quattro risate insieme e ogni volta è sempre molto molto rilassante e divertente e anche oggi è stato così non è stato troppo tempo ma abbastanza per rivederci e raccontarci un po' quello che accade nelle nostre vite che in questo momento sono un po' lontane ma presto ci saranno occasioni per condividere momenti belli come come quelli di Torino dopo dopo aver parlato con Jay ho fatto una cena veloce perché era un po' tardi per cenare ma cerco in questo periodo di cenare un po' più presto però non era troppo troppo tardi per me una pausa di riposo ancora e poi sono qui nello stanzino per raccontarvi tutto questo e tutto quello che è accaduto questo è il mio 25 aprile questa è la mia giornata di festa nazionale è stata piacevole c'era tanta gente in strada quando sono uscito c'erano anche delle feste sulla spiaggia un'enorme festa di ragazzi di giovani sulla spiaggia in uno stabilimento balneare o Lido come li chiamiamo noi era un po' strano perché l'ora non era quella non sembrava quella giusta erano le sette di sera e c'era già questa festa con tantissimi giovanissimi ragazzi che ballavano e stavano anche in mezzo alla strada dove io correvo ho dovuto fare un po' a zig zag diciamo noi quindi un po' e cercare di evitare cambiare direzione spesso per evitare questi giovani che si divertivano bene quindi un buon 25 aprile il tempo è stato abbastanza bello a parte questo vento una buona giornata di lavoro anche non mi posso lamentare qualche notizia per oggi no direi che vi parlo solo del 25 aprile in questo periodo c'è stata un po' di tensione politica anche sociale se vogliamo beh non è un segreto che il partito il più importante partito in questo momento quello di Giorgia Meloni è un partito molto conservatorio comunque considerato di centro-destra ma un po' più a destra questa è la percezione è quello che molte persone pensano non siamo a l'idea di pericoli per la democrazia ovviamente ma certamente una parte dell'Italia considera il partito di Giorgia Meloni e questo governo un governo più di destra quindi in questo giorno di celebrazione per la resistenza italiana e per i valori insomma della Costituzione e delle libertà democratiche qualcuno nella parte più progressista o liberale insomma ha avuto un po' di parole di polemica insomma su alcuni membri di questo governo e di questa maggioranza politica insomma un po' di tensioni ma non eccessive perché in questa giornata ci deve essere unità quindi non c'è stata davvero uno scontro tutti rivendicano questo giorno tutti ne fanno un giorno simbolo dei loro valori ma chiaramente le organizzazioni dei partigiani anche se sono rimasti in pochi non guardano mai di buon occhio questi partiti più a destra perché ovviamente la loro storia ha visto in passato scontri con una certa destra e quindi chiaramente c'è un po' ecco di tensione ma niente di troppo esagerato per fortuna il presidente Mattarella ha ovviamente tenuto un discorso dopo aver portato dei fiori sull'altare della patria dove c'è il milite ignoto ha lasciato come sempre una corona di fiori Giorgia Meloni ha avuto degli impegni ovviamente istituzionali per questa giornata e la sua frase il suo commento principale su questo 25 aprile è stato questo il 25 aprile sia un momento di ritrovata concordia nazionale concordia significa un clima di amicizia di fratellanza anche insomma un clima di unità unità nazionale questo è stato l'invito di Giorgia Meloni a superare le differenze ideologiche e politiche per ritrovare l'unità nazionale questa è l'unica notizia che vi do ma vi lascio però con una frase ovviamente sulla sul 25 aprile e sul valore della resistenza italiana una frase di un personaggio molto importante Pietro Calamandrei è stato un grande giurista e politico italiano uno dei fondatori del partito di azione che ha combattuto ovviamente contro il nazifascismo e che ha ispirato anche ovviamente la resistenza in Italia la sua frase su questo che io ho scelto per questo giorno riguarda la Costituzione ma anche la resistenza ed è questa dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì o giovani col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione una frase ovviamente rivolta ai giovani per ricordare a loro dove nascono le nostre libertà come è nata la nostra bellissima Costituzione come è nato insomma il sogno di un'Italia moderna repubblicana che garantisca a tutti democrazia e libertà quindi l'invito è sempre lo stesso insomma ricordare quanto è costata questa libertà e quindi cercare di fare buon uso della democrazia e di tutte le libertà di cui godiamo perché sono preziose e sono anche fragili come sappiamo bene e dopo la mia piccola parentesi di filosofia direi che possiamo chiudere qui anche oggi è un po' lungo mi dispiace l'appuntamento è per probabilmente mercoledì o giovedì vedremo ma forse anche domani potrei registrare il nuovo podcast ci penserò per il momento vi posso dire solo che fra poco andrò a dormire e vi posso dire che sono molto rilassato e sereno in questo periodo spero di fare un buon lavoro non mi abbandonate continuate a seguirmi continuate a seguire il podcast e tutti gli altri progetti vi prometto che farò del mio meglio per ora però faccio solo un'ultima cosa vi saluto e ciao a tutti